Dopo due mesi di flessioni torna a crescere a novembre il fatturato dell'industria, favorito da un maggiore dinamismo della componente estera rispetto a quella interna. Lo rileva l'Istat, che segnala un aumento dello 0,9% in termini congiunturali e dell'11,5% anno su anno. Nel trimestre settembre-novembre 2022 l'indice complessivo è cresciuto dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. Con riferimento ai raggruppamenti principali di industria, il fatturato segna un aumento del 2,7% per i beni strumentali, dell'1,5% per quelli di consumo, flessione su base mensile per energia e beni intermedi. Il fatturato totale dell'industria cresce a due cifre su base annua. A trascinarlo in particolare sono l'energia e i beni strumentali e di consumo. Un aumento più contenuto si registra per i beni intermedi. In crescita anche il comparto manifatturiero, dove tutti i settori registrano segni più.